Comodi grazie, adesso che mi sono doffata, allora dovrei cominciare a dire silenzio in aula e possiamo andare avanti con i nostri testimoni e adesso abbiamo, se non vado errato, il dottor Cerro che ci sarà presentato da chi l'ha citato, è un test della difesa, uno psichiatra dell'AS2 Savonese, ci parlerà della società dell'immagine e della prestazione. Consapevole che nello sport come nella vita l'importante non è vincere ma partecipare, mi impegno a dire la verità e non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Prego. Grazie. Dunque, io vi porto la mia testimonianza e la mia testimonianza deriva dall'esperienza di lavoro principalmente, in realtà deriva da due esperienze, una professionale e una personale. Quella professionale deriva dall'esperienza con i disturbi del comportamento alimentare, che questo è il centro dove io lavoro da molti anni, quindi è un'esperienza diciamo ventennale di contatto con i disturbi del comportamento alimentare di origine psicologica. L'esperienza personale deriva dal contatto con ambienti sportivi, agonistici e non per tutta la vita sostanzialmente, che mi ha permesso quindi di intersecare questo fenomeno, il fenomeno di cui stiamo parlando, quindi a diversi livelli. Principalmente però parlerò della mia esperienza lavorativa. Perché i disturbi del comportamento alimentare? Dunque, cioè perché il cibo? Ecco, credo che il cibo rappresenti, il cibo e le sue patologie, il cibo come costume, il cibo come patologia rappresentino un buon vertice di osservazione, una buona posizione per poter parlare del fenomeno doping e soprattutto della società, del benessere, della società dell'immagine, della società della prestazione. Vorrei incominciare con una serie di immagini che vorrei utilizzare proprio come suggestioni. Le lascerò quasi senza commento, ma per darvi una sorta di input emotivi, di suggestioni e poi porterò le mie considerazioni. Credo che come ogni testimonianza è una testimonianza che risente della mia soggettività e quindi risente di quello che io penso. Cercherò però di portare il più possibile le testimonianze, l'esperienza dei ragazzi che io vedo, l'esperienza di situazioni che ho visto. Volevo iniziare con una serie appunto di immagini. Sono tutte immagini tratte dalla rete, immagini e frasi, commenti, interviste che sono tratte da esperienze di prevenzione per il disagio legato ai disturbi alimentari. In particolare io ho fatto parte dei lavori della Consensus Conference sui disturbi del comportamento alimentare nel 2012 e molti lavori di prevenzione utilizzavano delle interviste a ragazzi e delle esposizioni a immagini. Allora qui vedete, nella prima io l'ho chiamata la lotta con la bilancia. Vedete l'espressione come denota un atteggiamento proprio di combattimento, di lotto, di confronto duro e faticoso. La seconda è tratta da un'intervista, una ragazza, una ragazza non patologica, un'adolescente, dice che non è poi tanto facile mantenere un giusto peso in una società che ti sbatti continuamente in faccia a spot di merendine o altro cibo che sicuramente non ti aiuta a rimanere in forma. Questa è un'immagine tratta dalla rete e che evidenzia come il legame, cominciamo ad entrarci nell'argomento della mia testimonianza, il legame tra autostima e immagine. L'autostima femminile scende sotto lo zero durante la pubblicità di Intimissimi. Altra testimonianza, molti dei miei amici, se non tutti, stanno sempre attenti alla loro forma fisica, rinunciando a tutto quello che non è indispensabile per vivere. Le ragazze soprattutto fanno di tutto pur di non sentirsi brutte. Cominciamo ad addentrarci in questo tema su quanto è importante stare in forma, stare nella forma fisica, avere un certo aspetto a prezzo di rinunce, di rinunce di altri aspetti della vita. Se non mi distruggo in palestra, non corro fino a stare male, non posso permettermi di ingoiare niente, non me lo perdonerei, ma intanto mi faccio schifo allo stesso, è tutto inutile. E qui si vede bene il legame tra l'attività fisica portata all'esasperazione e un'attività naturale come dovrebbe essere quella di nutrirsi. Quindi nutrirsi non è più un atto naturale legato al sopravvivere, al vivere, ma così come l'attività fisica non è più un'attività salutare, naturale, fatta per piacere, ma diventa posso mangiare solo se mi distruggo in palestra. Se non sei magra non sei nessuno. So che non è giusto, ma ti fanno sentire così. Questa è l'immagine di una modella. Sapete che la moda si è data anche un codice etico, ma ciò nonostante le immagini che noi vediamo continuamente di modelli sono di questo genero. Però è positivo che ci sia dato un codice etico. Appena passi a Milano le ragazze ti passano lo scanner della testa ai piedi per finire come ti vesti. Se passi l'esame sei ok, se no sei out. Ok e out diventano due, quasi due categorie dell'esistenza. Sei ok, sei inserito, vai bene, sei consono. Adesso va di moda questa parola orribile, performante. Sei performante, quindi vedete come la performance diventa un elemento. Sei performante o non lo sei? Sei ok o non lo sei? Con una ablazione di tutto ciò che invece è sfumatura, è complesso. Ora alcune immagini trattate dal mondo, dalla pubblicità. Questa è una pubblicità di condizionatori. E vedete che per esprimere l'utilità dei condizionatori viene portata questa immagine del riscaldamento globale con il famoso Monte Rushmore. Quello che però colpisce il motivo per cui lo portate è come viene usata però un'immagine maschile in questo caso, però viene usato il corpo per sottolineare il messaggio. Probabilmente se non ci fosse questa immagine di questo corpo il messaggio non passerebbe nello stesso modo. Altra immagine della pubblicità, giocata su questo stimolo ambiguo. C'è tutta un'enfasi sul mangiare sano, il mais eccetera. Poi di fatto come tutto diventa, viene giocato sull'immagine e su questi messaggi che sono di per sé messaggi ambigui. Naturalmente questo è anche lo scopo che si pone la pubblicità, però è significativo l'utilizzo di queste immagini. E anche questo. Più saporito dell'insalata, più economico dell'insalata. Fuck l'insalata. Qui per pubblicizzare una montatura di occhiali viene usato un messaggio chiaramente seduttivo, ambiguo, però anche qui colpisce come il corpo venga usato in questa maniera. Questa invece è una testimonianza di una paziente. La porto perché ci tocca apparentemente marginalmente, ma voglio portare proprio la testimonianza su fin dove può arrivare questa esasperazione del corpo, dell'immagine. Naturalmente è unito ad altri aspetti che fanno parte invece della patologia psichica, però questa è una testimonianza di una ragazza anoressica. Ho sempre avuto paura a fidarmi degli altri, compresi i miei. Mi faceva paura a seguire quello che dicevano. Non ero mai sicura che fosse la cosa giusta. Avevo bisogno di un punto fisso nella mia vita. So che è assurdo, ma sentire le mie ossa, il loro contatto con la pelle, mi sembrava l'unica cosa di cui potermi fidare. Ora, questo è il linguaggio esasperato di una paziente, naturalmente, però è in fondo un'esasperazione di qualcosa che avviene a livelli anche molto più comuni, cioè il contatto con il corpo, la definizione del corpo, sapere com'è il corpo, sapere che lo sento, che è fatto in un certo modo, diventa il punto fisso della mia vita, diventa l'organizzatore della mia vita. E allora il corpo deve avere una certa dimensione, devo poter sentire la muscolatura in un certo modo, non devo sentire grasso, non devo sentire... il body checking, cioè devo continuamente poter controllare che il mio corpo è in un certo modo. Vabbè, questa è un'immagine di una paziente molto grave. La mamma di una paziente anoressica dice vorresti capire, vorresti allontanarti dal problema, ma è più forte di te. Stai lì e la guardi mangiare, parla della figlia. Dei giorni va bene e li superi, altri non ce la fai e ti allontani da tavola. Quando qualche volta lei si lascia andare, mangia un po' di più, pensi, ecco, l'abbiamo superato, e invece il giorno dopo è uguale. La paziente dice, mi guardano, scrutano tutto quello che faccio, in fondo sbaglio sempre, niente sarà più come prima, ma per fortuna. E allora il corpo magro diventa l'unica forma di controllo della sua emotività. Ok, questo era per darvi un po' una carellata di immagini. Come già stato un po' anticipato anche nella presentazione, adesso ci sono nuovi fenomeni che si affacciano, adesso, insomma, diciamo, negli ultimi anni, che si affacciano all'aspetto del disturbo del comportamento alimentare e sono due fenomeni che riguardano molto la società nel suo insieme, che sono l'ortoressia e la bigoressia o vigoressia o reverse anorexia. L'ortoressia e il mangiare sano, l'ossessione del mangiare sano, questa è stata avvicinata alla patologia, non è ancora considerata una sindrome vera e propria, quindi questo bisogna saperlo, non è ancora, anche se ci sono state proposte di inserirla nel DSM-5, ma non è ancora considerata un disturbo. Tuttavia, come ha sottolineato alcuni autori, a certi livelli ha queste caratteristiche, cioè, le persone che sono autoressiche dedicano moltissimo tempo alla ricerca di cibi, moltissimo tempo e anche denaro alla ricerca di cibi sani o comunque cibi etichettati, diciamo, in un certo modo, rinunciano ad occasioni, per esempio, sociali o occasioni di svago se non sono sicuri di mangiare in un certo modo, quindi tutto questo configura, può configurare un quadro vicino alla patologia, al limite, borderline, un quadro di addiction anche per certi versi, anche se magari non ancora, francamente, patologico. L'altro quadro, la bigoressia o vigoressia o anoressia reverse, è stato anche anticipato, anche dal nostro sindaco all'inizio della giornata, è un quadro molto interessante perché, intanto per i dati, perché circa il 10% di tutta la popolazione che soffre di disturbi alimentari è maschile. Pare che questo trend sia in aumento, perché è sempre stata considerata una patologia femminile, ora sembra che ci sia un trend in aumento dei maschi e pare che quelli che soffrono di questo disturbo siano maschi che hanno, prevalentemente maschi, che hanno queste caratteristiche, cioè scolpiscono il loro corpo, lo ipertrofizzano con allenamenti, allenamenti tipici del bodybuilding e soprattutto diventa una dipendenza perché se il corpo non è fatto in un certo modo anche loro cominciano a non potersi esporre, non possono esporre il loro corpo se non è perfettamente rispondente a certi canoni. E in più questo corpo diventa sempre più grosso, sempre più dotato muscolarmente e come abbiamo visto nelle immagini precedenti certe masse muscolari si ottengono solo facendo ricorso al doping ma soprattutto si configura una dispercezione corporea cioè quello che è il nucleo psicopatologico principale del disturbo alimentare nell'anoressia è condiviso anche da queste forme perché sono persone che continuano a vedersi fragili a vedersi deboli nonostante acquisiscano queste masse muscolari enormi quindi nelle forme più esasperate veramente c'è una dispercezione del proprio corpo che dal punto di vista psicopatologico è un sintomo piuttosto grave questo l'altro aspetto è importante è il legame tra sport e disturbi dell'alimentazione nel senso che naturalmente nei disturbi dell'alimentazione francamente psicogeni c'è un nucleo psichico che va al di là di questo però si è visto anche come dati che per esempio per le ragazze che frequentano che praticano sport dove il controllo del peso è essenziale pensiamo alla danza ma non solo al nuoto sincronizzato insomma vari sport in cui il controllo del peso è essenziale c'è un rischio doppio di ammalarsi di disturbi alimentari questo naturalmente non per demonizzare questi sport assolutamente ma per dire come questa attenzione l'attenzione su come vengono diffuse certe informazioni deve essere portata molto in alto altrimenti c'è questo rischio questa questione del diciamo della società appunto dell'immagine dell'utilizzo del corpo in questo modo e della patologia che è legata a questo può essere affrontata da diversi naturalmente da diversi punti di vista insomma io continuo in questo testimonianza nel senso che vi dico le cose cioè dico dico qui le cose che in qualche modo ho visto io o che ho studiato o che ho osservato ecco volevo usare come spunto questa è una frase di un libro che ha avuto un certo successo all'epoca delle passioni tristi scritta da Benasaiaga e Schmid che sono due psicanalisti argentini in questo libro loro portano fondamentalmente questo tema che è il fatto che la società in cui viviamo è una società dove si è perso è una società in cui non riusciamo più a trasmettere ai figli ai giovani il desiderio di futuro la promessa di futuro ma per una serie di questioni di perdita di valore di perdita di ideale e anche di decaduta diciamo dei grandi temi narrativi delle grandi ideologie non siamo più in grado di trasmettere un'idea di futuro positivo ma l'educazione dei nostri figli è più un invito a essere spaventati cioè si educa in funzione di una minaccia si insegna a temere il mondo ad uscire indenni da pericoli incombenti naturalmente questo centra molto con questa è una considerazione di tipo sociologico e anche psicologica questo centra molto sui temi che ruotano intorno ai disturbi del corpo perché nei disturbi della corporeità in genere c'è una volontà tirannica che ruota intorno alla dialettica del desiderio il desiderio è per sua natura qualche cosa che deve fare i conti con la disillusione noi possiamo desiderare se siamo in grado di fare i conti con la frustrazione diciamo l'elogio della sconfitta di Pasolini con cui abbiamo cominciato questa giornata è un buon esempio noi possiamo aprirci al desiderio ma il desiderio deve fare i conti sempre con la sua frustrazione le nostre vittorie sono sempre parziali l'anoressica che cerca di limitare di controllare al massimo l'alimentazione lo fa fino a un certo punto l'atleta che dedica tutta la sua vita a allenarsi otterrà delle vittorie ma deve fare i conti anche con la sconfitta quando la questione diventa patologica c'è invece un tentativo di controllare la frustrazione allora quando il corpo viene usato in questo modo quindi per esempio penso a certe persone che trascorrono ore e ore in palestra non tanto per allenarsi per uno sport non per allenarsi a qualche cosa per raggiungere un obiettivo ma per avere un corpo fatto in un certo modo allora qui c'è un tentativo di controllare dall'esterno qualche cosa che non è controllabile cioè attraverso il corpo io cerco di tenere sotto controllo l'inevitabile frustrazione l'inevitabile delusione o dispiacere che posso avere se mi apro una vita emotiva più libera se mi apro al desiderio e alle passioni qui ho portato un esempio Matilda un nome fittizio naturalmente tenta di controllare il cibo e si sfinisce in palestra come fanno le nostre pazienti ma dà un tempo alle proprie emozioni ne controlla la durata quando decide che basta è solo lei a decretarne la fine c'è un'enfasi sul ripeto più ancora che sul raggiungere certi risultati ma sul anche sui risultati però quello che vedo io è che c'è molta enfasi sul fare lo sforzo cioè questi ragazzi sono contenti se dedicano un tot di ore all'attività fisica dopodiché si possono rilassare però questo dedicare a questo tempo è un tempo che diventa tiranno cioè riempie tutto il resto e quindi quello che viene fuori non è il piacere di fare sport di migliorarsi di confrontarsi anche nella competizione ma è soprattutto il piacere del controllo sono tranquillo ho controllato questa cosa qua naturalmente è un controllo apparente perché poi è un meccanismo senza fine convivere con le proprie passioni presuppone una scelta coraggiosa che riesca a mettere in conto la possibilità della disillusione è avvenuta nel corso diciamo del novecento una certa mutazione nella fenomenologia di questo tipo di patologie perché è avvenuta una sinergia esplosiva diciamo tra i comportamenti di evitamento e di controllo sul cibo quindi una certa pressione alla magrezza con in generale un disturbo più con un disturbo più generale della corporeità tanto è che è più corretto parlare più che disturbi dell'alimentazione di parlare in generale dei disturbi della corporeità il corpo il corpo diventa il rifugio di tutte queste tensioni queste emozioni che abbiamo visto non si possono controllare attraverso il corpo un corpo che però devo sempre tenere sotto controllo controllo la vita emotiva un concetto molto vicino a queste cose anche il concetto di disturbo etnico cioè nel senso che l'individuo soffrirebbe l'individuo sarebbe come un riassunto soffrirebbe in forma acuta delle insicurezze che pervadono la società in cui vive questo è un discorso che è stato portato avanti per esempio da Susan Sontan con la libera malattia come metafora mi avvio a concludere per non portare via troppo tempo però un accenno proprio a una questione ancora sulla società cioè la società che è stata definita la società liquido moderna definita da Barman che tra l'altro è morta proprio in questi giorni questa società che ha perso le sue certezze dove tutto viene messo in crisi e dove l'individuo avendo perso dei punti di riferimento deve comporre continuamente un puzzle per creare la sua identità cioè l'identità non è più legata a delle dimensioni stabili e costanti dei punti di riferimento ma è come se dovesse continuamente riorganizzare un puzzle che sfugge continuamente e allora la qualità delle relazioni può essere sostituita dalla quantità dobbiamo avere più relazioni possibili la comunità è diventata il consumo e la sua unità di misura è l'individualismo è come se per citare anche qui due autori se fosse passati dal concetto di affluent society cioè quella società descritta da questo economista John Galbraith in cui una società che crea continuamente nuovi bisogni dove i bisogni vengono creati dalla disponibilità quindi dal consumo a una società in cui un concetto sottolineato per esempio da Lipotersky una società in cui non viene più venduto l'oggetto la merce ma viene venduto uno stile di vita un modo di essere è questo che ci viene proposto e questo è molto attinente al nostro tema perché il modo di essere è un modo di essere a tutti i costi sano performante per usare il termine di prima è un modo di essere in cui io devo sempre essere a posto andare bene un modo di essere basato sulla prestazione l'ossessione del successo della forma fisica della salute ma non solo la medicalizzazione dei consumi abbiamo parlato dei farmaci naturalmente ma non solo i farmaci c'è anche inserti su riviste siti internet libri sulla longevità che sono al vertice della classifica anche interessanti però sono al vertice della classifica dei libri più venduti come non invecchiare come non invecchiare mai c'è una medicalizzazione crescente di aree prima non connesse alla dimensione sanitaria pensiamo per esempio appunto al cibo non è più connesso al suo valore di nutrimento ma diventa cibi cosmetico il cibo che ci fa bene il cibo e così via e poi in ultimo la performance l'ottimizzazione di sé sempre e comunque indifferentemente dall'età è stato detto anche prima non possiamo più invecchiare anche se invecchiamo dobbiamo avere le stesse prestazioni di prima io ho visto nella mia frequentazione di ambienti sportivi ho visto gente che si dopava per le gare master gente di 45 50 anni che fa ricorso al doping per le gare master e ne fa una questione di vita una questione come se si giocasse la vita su questo quello che dovrebbe essere un piacere un passatello questo solo per dire quindi dobbiamo ottimizzare sempre a qualunque costo nonostante l'età nonostante la salute nonostante possiamo avere qualche acciacqua non è permesso venire a meno questo naturalmente attiene anche alla responsabilità individuale però quello che succede è questo c'è una certa pressione della società della cultura c'è solo per finire ho portato una una frase di parola bianchini che lavora a todi nel centro per disturbi alimentari ed è anche una filosofa e dice il rapporto con l'immagine del nostro corpo è qualcosa che va costruito nel tempo cambia il nostro modo di vedere le cose e cambia il corpo a cui aspiriamo quindi questo concetto di corpo in realtà bisogna tener conto che è un concetto in evoluzione è un percorso la nostra identità corporea è un percorso in realtà a nessuno è concessa l'immagine fedele del proprio corpo neppure allo specchio l'immagine riflessa infatti non è sovrapponibile concludo con questa frase delle Eve Ensler comediografa americana abbiate il coraggio di amare il vostro corpo smettete di aggiustarlo non è mai stato rotto ci sono domande al test che ha concluso con questa frase così saggia direi ma io più che una domanda vorrei fare una una chiosa diciamo perché sostanzialmente ha ripreso quelle che sono state le mie tesi di apertura cioè un problema alimentare che di fatto è riconducibile alla società dell'immagine che ci circonda e da qui nascono pertanto due concetti di essere in forma la forma che effettivamente è giusta per il mio corpo per la mia salute e quella che invece è richiesta dalla società ecco volevo sapere quindi se nell'ambito del suo intervento rientrano anche poi tutte quelle diete che ora vanno di moda dalla dieta crudista al veganismo che spesso sono portate all'esasperazione sì naturalmente non si può come dicevo prima non si può connotare come necessariamente negativo o patologico questo però denotano un grosso rischio che è proprio il rischio ci sono due tipi di rischio uno psicologico e uno fisico nutrizionale quello psicologico è che questo crei una sorta di dipendenza cioè posso utilizzare l'alimentazione che dovrebbe essere la cosa più naturale del mondo cioè dovrei mangiare per vivere solo se corrisponde a determinati requisiti che sono requisiti mentali fondamentalmente o culturali che però l'altro è anche nutrizionale invece perché comunque con questo tipo di diete si può facilmente sviluppare un disturbo dell'alimentazione vero e proprio si può andare incontro a rischi per esempio un'alimentazione selettiva ci può portare a escludere nutrienti che invece sono fondamentali perché l'alimentazione invece deve essere varia e variata quindi ci possono essere sicuramente questi rischi grazie grazie